musica ok che palle non sono per niente soddisfatto ok si attiverei questo se non ti dispiace questo non lo becca adesso andrei da Mario nascondendomi ovviamente qui no non becca Mario non becca nessuno si lo faccio bitch bam KO e adesso Rabbid Mario tocca a te tocca a te puoi atterrare sui nemici no ovvio perché ovviamente non puoi vai bello allora vediamo un po' se eh madonna se basta fa un botto di danno 100 madonna Rabbid Mario ha un cristallo di tank ok non si sa mai tutti i nemici sono fuori portata quindi turno ai nostri nemici tornado è praticamente un categnaccio il tornado è come nel primo mondo ogni mondo ha la propria rotta di pae calmo eh buono quanti veloce 40 eh 40 ma li fai secchi proprio senza se senza ma bam ciccio 59 madonna che stupidi quello lancia una granata mi sa eh si hai fatto bene e cura tutti madonna ma si si stronti non devo dire parolacce allora è vero che c'è è vero che ho la scivolata esplosiva no non lo becco vediamo se no è vero vero che palle 40 eccolo 80 così nel loro turno 30 ma se tipo io becco dovessi beccare ecco se io volessi beccare l'altro forse riesco a beccare anche e dai era lì cioè stai prendendo in giro stai prendendo in giro o si prendermi in giro boh raga io ci provo ho fatto bene ho fatto stra bene eh mi sa proprio di si adesso pitch 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 carissima mettiti qua che devi fracassare il nemico beh io ti verrei lo scudo prima di tutto così sopravvivo e ti farei i tuoi danni 70 peccato l'avrei potuto shottare avessi avuto un filo in più di fortuna attiriamo i nemici va ah ma funziona così no non farlo non pitch bravissimo non pitch ma dai 5 di vita sei più morto che vivo ma la smetti e adesso lo cura vacca mi metto qua va 30 di scivolata e penso che poi ti smonto ti posso smontare con questo 111 che sono un botto di danni eh francamente sono un botto adesso pitch in scivolata dovrebbe riuscire ad arrivare qua 0% 0% 0% ma mi metto qua così mario può rimbalzare su di me e può atterrare sul nemico tipo credo proviamo bomba se può 30 e penso che abbasti ko forse abbiamo vinto yeah abbiamo vinto quanti turni 3 su 4 onesto ce ne metto sempre di mano io ok continuiamo la nostra avventura adesso sappiamo dell'esistenza dei tornadi e che saranno un problema c'era qualcosa da guardare ma si gettiamo i rabbi dal vento cosa che stupidi qua non c'è niente entriamo qua dentro 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 oley qua c'è un puzzle completiamolo che ancora non possiamo completarlo una traccia musicale da ascoltare al museo monete 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 ma credo che mi sa che abbiamo qualcosa da sbloccare è in capacità 50 ce ne abbiamo un botto raga 50 e danno un forte con scivolata non mi interessa aumenta il massimo punto di salute di mario più 30 ma mi sa che c'è anche suo cosa mi manca da sbloccare per averlo ah no devo averne 50 vabbè allora aspetto volentieri te invece hai qualcosa da fare eh ne mancano più 20 altri più 20 ok ci sta vai non ne frego proseguiamo la nostra avventura qua sotto non vedo dove stia andando madonna un prurito al naso pazzesco ok let's go eccoci no ma siamo già stati qua no no lo scudiero che palle all right raggiungi la zona eeeh si no ma tranquillo più lontana l'avrei messo tranquillo allora raggiungiamoci un attimo bah e non voglio scherzi ok niente pitch andiamo di lui no becco mario col cazzo col kaiser raga ma hai detto qua scivolatissima altri 20 quanto t'ho fatto 125 basterà eh ma cristo becco anche me eh eh eeeh vedi questo potrebbe essere un problema facciamo le cose con calma fa ah ok questo non me l'aspettavo e non doveva nemmeno succedere ma vabbè ma se cambio obiettivo è tipo becco l'altro non l'ho shotto ma gli faccio un botto di danno no l'ho par what non avrebbe dovuto pararlo eh vabbè che palle quanto fa 126 guarda non ne frega niente mi fermo qua eh ma raga mi spiace ok non avrei voluto farlo ma ho dovuto un po' di cura per tutti oh rabbit mario ok passiamo il turno il turno è il nostro nemico dov'eri non eri lì smettila non dire cazzate non è vero che eri lì da 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 effetti strani cosa fa no altro miele a tutti praticamente ammesso si vabbè ma impossibile questa cosa miele a tutti praticamente no raga ricominciamolo ma che scherzi fa ricominciata questa è difficilissima scherzi impossibile no aspetta ma magari non è che abbiamo non è che abbiamo magari qualche arma l'ha da usare abbiamo anche qualche arma secondo me selezione arma si eccole lì le nuove armi possibilità di rimbalzo un botto un botto quindi eh ma 800 porca vacca 800 è un botto e anche questo però fa fare molto danno eh però vedi mario ha questa cosa contro gli scudati eh vedi forse questa è la risposta giusta però anche questo porca ma ma porca miseria raga no inutile eh mi sa che il cactus no ma non ne ho bisogno perché perché sto non a comprare non ce n'è bisogno non c'è bisogno allora raggiungi la zona devo fare tutto il giro lì 1 2 ma si è una cazzata ce la possiamo fare combatti fine allora effetto di mario adesso scivolata dell'amico perché becca tutti posso farne due madonna ma è illegale sto mario sei inumano sei inumano te lo dico io eh vabbè poteva andare meglio allora adesso tocca a mario 1 2 no vero no ok allora proviamoci comunque 1 e mi metto tipo no aspetta 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 c'è pitch che ha l'affarino lì 100% di beccarlo ma che scherzi vai istantaneamente eh ma adesso potrebbe essere effettivamente un problema no ma a 4 di vita a 4 di vita ce la posso fare a 4 di vita ce la si fa ce la si fa adesso non so se effettivamente glieli fa glieli fa ottimo primo turno devo essere sincero ce la siamo vista bene bene ti prego danno alto danno alto 76 vai bello vai bello tutta un'altra partenza rispetto a prima raga tutta un'altra partenza cioè proprio ciao ciaoone ma perché devi prendertela per forza con pitch stupido aia miele miele no 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 ok me l'hanno distrutto siete degli infami parola di frozzi allora se mi metto qua però no possono scendere mi fa morire il fatto che facciano 40 ah ma ho il 100% ah ah non so come ma è successo aspetta un po' allora visuale tattica salgo qua aspetta un po' aspetta un po' aspetta un po' attirali non li attira però come vorrei io ma sai cos'è che salendo qua ho un rischio del 1000% di fare casino vabbè io ci provo 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 basta mamma mia ma che cacchio dici ma please skill speciale che è meglio vai bello vai 102 li fa sobrio non me l'aspettavo pitch non ci arriva si pitch ci arriva ma quanto son tattico anche qua il 100% buono 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 non so se posso usare la macchinetta perché mi sarebbe già usata ti prego fa il bonus il bonus il bonus si ma che culo che culo vai bello vai bello vai bello e passerei holy shit questo non me l'aspettavo per niente aia 72 critico miele ma altro praticamente questi hanno il 100% di far entrare gli effetti ma quanto godo fatto pro per esempio quanto ci ho messo due turni 3 3 su 5 ma quello è un banjo ma che bomber è un bomber fine è veramente un bomber ok tempio di mamma mia 900 monete e 15 sfere ok allora cannone si vola si vola di brutto e vabbè me lo dici così ma cos'è questo paradiso fossero tutti salti così due monetine centro battaglia allora abbiamo un po' di sferabilità allora da usare direi che quindi andiamo a metterci più salute onestissimo non mi basta 55 buono così vai vai dammi un po' di salute un po' di salute extra altri 20 sta diventando un tank della madonna questa assurda altro cannone dove mi lanciate ciao terra ghiacciata secondo me i boss di questo livello ci fa il culo così grande ciao altair che giochi a splatoon 2 let's go ottavo mondo oh ma guarda lì no una cazzina oh ok bene bene pare proprio che la squadriglia del buffo voglia scoprire tutti i tuoi talenti spawni chissà con quale nuova creazione di stipulare la prossima volta sono proprio curioso meglio che sia qualcosa di efficace vuole andarsene forza fagliela vedere prendi ispirazione dai tuoi peggiori incubi o ti farò vedere di cosa dovrai davvero aver paura smetti di dimenticare di menarti stupido roditore finirai per cadere ma scusa non potevo andare Bowser a prenderlo Bowser che è successo è caduto il frego tutti tristi eh ma effettivamente erano tutti lì tranquilli e voi state lontani da spawni anzi levatevi proprio dai piedi punto ho cose da fare a ordine del mio papà da ignorare ma perché stanno giocando tutti i miei amici a Splatoon 2 ora ma 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 io direi di bloccare qua l'episodio raga grazie per avermi seguito blocchiamo qua l'episodio perché vedo già nemici grossi ho paura di sforare di brutto con l'episodio mi raccomando tanti mi piace io vi aspetto nel prossimo episodio ciao 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 Al prossimo episodio